Cioè, che ci facevi al centrocampo? Che volevi fare, Davide, al centrocampo? Eh, ma non ho spiegato. Ah, per te ne è stato un new one che dava hit? Ma io l'ho detto quando loro stringivano, ma è normale che se loro allargano devi stare largo, ma coglioni. Ma non è che se loro allargano, loro hanno fatto una rimessa dal fondo e Davide, invece di marcare le terzine, è venuto al centrocampo. E' fatto, sai, le terzine fino al centrocampo. A me ce la vuole più grande che io gli ho più avuto. Ma non sono forti, eh. Per niente. No, ma si potrebbe non battere, però. Guarda, 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 guarda. Ma io, Davide, dopo hanno perso uno e vinto uno. Non lo è proprio questo FIFA di merda. Cioè, come fa? Ma la squadra perde 4 a 0 la prima, vince 2 a 1 la seconda. Cioè, ma se vede che la FIFA sono a mezzo a mezzo, cioè... Conto un cazzo, sono forti o scarsi. Non conto, eh. Non conto un cazzo. Perché se sono 10 di loro e io li devo andare a pressare per prendermi il pallone, ma invece no. Con la grande intelligenza vado al centrocampo che la palla sta sul terzino. Ah, ci vanno a mezzo a mezzo a mezzo, ma sarebbe... Autocampo che la catena più, non è stato così, ma pure sarebbe... E no, ma la mandiamo alla fine tutto il tuo. E tu due. invita che si trova eh allora si dici loro e fateli senti eh 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 però ah 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 ma sono troppi ma non come così sì anzi mettila bianca a noi 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 eh a noi a noi ad a noi a noi a noi ah a noi non l'ha visto non lo vede non lo vede non lo vede raggiunti c'è 30 anni ma vabbè che non comincia io ma che fa l'auto access lo vede bene qui il difensore che ha costretto l'attaccante all'errore l'ultimo tocco è il suo sarà rimessa laterale si butta in avanti c'è vantaggio come il pallone sulla parte attenzione perché è pericoloso ottima lettura del difensore che ha capito tutto ha recuperato il pallone può metterla in mezzo pallone invitante può ricevere una posizione interessante Tony io sono tornato io dove non metterla in mezzo ti dà una volta andata da metterla in mezzo vediamo cosa inventa ora è in buona posizione può colpire da lì vediamo cosa fa ora fondamentale il difensore palla spazzata via azione che sfuma tiro muro ma passa ma la legge no però caraccio ma come ha fatto arriva il fisco dell'albito dopo la segnalazione del guardaline dunque si parte col calcio di posizione si fuori gioco è che c'era giusta l'interpretazione dell'albito venga devo bloccando non so se devi mai girare prima di guardaline occhio al suo movimento preferiscono ragionare bravo qui a sbarcarsi l'arbitro dunque lascia giocare giusto non c'è il suo vantaggio posizione ideale offside e vado la segnalazione dell'assistente che ha visto la posizione irregolare la linea era molto alta abbastanza facile eh ma eh si va buona ma che te ne ha proprio gioco eh valla banalmente ok via va a passare a me deve andare buono il tuo potente eh oh god oh god poteva aprire le marcature qui ma grazie a me grazie a me grazie a me eh eh ti muocire sempre qui è mezza pochi perché stanno preoccupato il calde 30 voto non è stato esagerato ma è stato esagerato ma è stato esagerato ma è volentina così azione che si fa interessante ma va lì in stazione si è sbarcato con gran classe qui e qualità eh si va no vieni davide buona oh ma è stato esagerato ma è stato esagerato che ne ha fatto in movimento ma come è una persona è stato esagerato ma è stato esagerato arriva a segnalazione di fuori gioco tutto fermo cioè qui nemmeno quando è stato da sì con la tonina non vuole dire ma è stato esagerato ma come è una persona ma è stata esagerata perché è pericoloso che ora vuoi rispondere tu te lo faccio tottino perché ieri non fanno muovere bene ma grazie ma non sono c'è una cosa ooo non c'è io sono c'è una cosa non c'è una cosa ma che ricomiglia stavanti gli comiglia tutta l'altro ma è stato esagerato subito smettiti suba l'azione ma che ci sta potendo in gioco io non c'è niente ma basta capire se ne ho c'è una cosa no è piaciato male ferma tutto il difensore bravissimo qui no ecco c'è un boffolo trovo che c'è una cosa è stato con l'esterno caraccio guarda la pallo esterna bocca stai da sola ovviamente uscirà tocca la palla in fallo laterale ci sarà la rimessa ma il battuto si è rimessa così lunga non c'è una rimessa pallone sicuro il terapetto del portiere che va in presa c'è stata cosa chi fa ma non c'è 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 non c'è ma non c'è Occhio, cerca l'area di rigore. Palla giocata sugli esterni. Stai calma, che stai sull'uomo. Ma guarda, guarda, diventa paura. Chi lo piglia e corre. E il pallone se ne va via. No, come si fa, no, come bello. Ma, purtroppo, secondo me lo fanno loro, fanno i costi. Fanno con i due pareggi. E poi si trova un'annanzia, fanno i costi. E ma, io, non faccio un'azione, fanno i costi. Taglia tutto il campo con questo raccio. Toni. Vediamo cosa inventa ora. Può metterla in mezzo. C'anzi importante dalla bandierina per mettere la freccia e passare a condurre. Passa. Ah, io ci vengo a po', aiuto. C'è una 30 di loro, ma come non vuoi si vengono? Ma, purtroppo, sì. Ma, attento, vanno a finire la famiglia. Ma, attento, vanno a finire la famiglia. Chi matta la giocatrice? Vai! C'è il tocco corto. Ma, chi matta la giocatrice? Chi matta la giocatrice? Pallone invitante. Occhio al pallone per il possibile. Tira, bravo. Tira. 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 Oh, oh, oh. Ma voi sarebbero, noi sarebbero, noi, sarebbero, noi, ma tutti, ma tutti, ma tutti, ma tutti, ma tutti, ma tutti, ma tutti. E' fatto un'azienda in двisi sveglia con il primo salvo, non sei bene, palo contro palo. Mamma mia! 45, 5, sei in fase di nato, è stato un luogo, pigliamo palo. Guardate. Buonasera. Buonasera. Mamma mia! Sì, durante un paolo. Però, ma mamma mia! comandata! che falla tutto pronto comincia la seconda frazione no paolo ma nato da picchiata e poi la terza volta passato che basta può avanzare un'ottima serie di passaggi ma a me non ha fastidio la mia non si fa però ed ecco dunque non la mangiare un'altra ora zero ma io stiamo vincendo ora no ma che da quello cercherà la senza problemi non saranno non ho un pezzo approvato non mi piace c'è la posizione di offside non manca molto al termine stanno producendo un match che almeno sulla carta mi vedeva partire come sfavoriti c'è però che non si è giocato non è stato meritato questo vantaggio si è visto in campo finale sembra due o tre l'organizzazione niente c'è noi se non si parla non è l'oro e non mi dimentico c'era una deviazione vincente no andrea lunga non gioca andrea stai troppo di sì stai troppo un giro non mi dimentico mi dimentico è un pò ma credo ma credo ma credo ma che quanto mi dimentico nemmeno non purtroppo no non so ma il un po' verticale un secondo bravo 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 ma stavi dietro Davide vai dietro perché non voglio più contro secondo ma è già ma è già ma non toglie ma non toglie ma scambia ma scambia ma stiamo bravissimo ma non toglie 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 ma come fanno a battere stigli mi sa fuori può andare vince il duello fisico non toglie non toglie non toglie ma non toglie ma non toglie lo stesso palla per gli avversari come mani come mani che non faccio più c'è un manacolo in profondità un rilancio lungo ma facendo un matrimonio un'altra buona giocata davide non ne ha l'interrope l'intercettata torno questo è quando vieni fatti non prendiamo cosa fa ora il pallone in rete ma non li diamo attraverso hanno pareggiato ma tu quando vieni scivolato Davide Gastein la spazio è avanti a sé e se si non recuperava Andrea che tocco vedere se ne c'ho è il secondo con la posizione è il secondo con la posizione chi sta fuori ancora un quarto d'ora da giocare pallone perso Caraccio hanno metri a disposizione cerca con questo l'acce profondità e c'è l'idea buona qui la copertura della ripesa ma non stiamo nuovendo è il suo potente Toni bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio no no lasciate clicca guarda qui la lettura del difensore perchè devo uscire a tutti però a metri percorrere occhi e le sovrapposizioni perché non vivi un po di canta ma fa però è molto incerta siamo nei primi finali siamo in parità ma che torna in possesso tocco orizzontale ottima chiusura difensiva situazione che era complicata e siamo entrati dunque negli ultimi due minuti ma io non ho federico in una prima ma io la passo a me la prima ma era federico ma era tu in grado no è un gol pesantissimo questo che è posiziona in negativo la loro gara hanno disputato una pandemia più una fase aspettativa giocando alla pari più quotato sulla carta si fa male si fa male per bere così è un gol pesantissimo e' un gol che fischia Grazie a tutti.